Ma io credo che soltanto in Italia accade che una magistratura venga attaccata e accusata di essere cancro della democrazia dal capo del governo, soltanto in Italia può succedere che i magistrati nel loro complesso vengono indicati come geneticamente diversi dal resto del genere umano. Allora quando si crea questo clima, questa tensione, non entriamo al dettaglio, campagne di stampa in alcuni casi decisamente orientate in un certo modo, purtroppo la tensione si crea e si crea al di là di quello che è normale, perché è normale che si crei tensioni in un processo penale che riguarda un uomo pubblico, ma se pensiamo come in altri paesi, dalla Germania alla Francia i processi nei confronti degli uomini politici siano stati assorbiti senza questi terribili conflitti nei confronti dei magistrati che iniziano con le indagini, capiamo che forse ci sono delle anomalie in Italia che sono la radice di tutto.